Ed eccoci proprio vicino a Salvatore Riuno mentre sta lavorando, voglio interromperti, scusami, scusami, buongiorno. Buongiorno. Salvatore, tu sei qui intanto allo stand di La San Marco, perché? Perché? Per fare un po' di dimostrazione, per far capire più o meno ai clienti, agli ospiti di questa fiera come funzionano delle macchine e alcuni sistemi nuovi. Tu sei campione italiano di latte art nero, come è cominciata questa passione in un primo momento? Come si è sviluppata e come sei arrivato poi ad essere campione italiano? Eh, tutto è nato come un gioco, quindi corsi di formazione, passione, corsi di formazione, amici, condivisione e poi arrivi più o meno a fare competizioni e tutto. Tu non sei di Trieste e si sente dall'accento, non sei di Reggio Calabria e si sente dall'accento. A Napoli c'è la cultura del caffè. Credo che tu abbia iniziato proprio da quello. Sì, 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 da quello, anzi da piccolino, forse tramandato poi dalla famiglia, quindi siamo una famiglia di caffettieri. Veniamo da quello, è stato trasportato da piccolino, studiato e poi c'è nata la passione del barista, del caffè. Salvatore, domani si terrà il campionato mondiale qui a Trieste Espresso. Quali sono le previsioni? In che cosa dovrai mostrare le tue skills? Eh, le previsioni sono buone. Ci siamo allenati, abbiamo fatto quello che potevamo fare tramite il nostro gruppo. Abbiamo allenato più quello che potevamo fare. I sacrifici ci sono stati e domani vediamo i risultati. In che modo la San Marco con le sue macchine è riuscita a darti un aiuto significativo per prepararti in questa enorme gara che sarà molto importante per te? Diciamo che la San Marco è stata la mia prima macchina acquistata per uso domestico, quindi tutt'ora oggi mi accompagna ad allenarmi, ad andare avanti con le competizioni, a fare corsi di formazione. Una macchina rigorosamente con la leva. Assolutamente, sì. Salvatore Riunno, il campione italiano di latte art nero, lo specifichiamo, grazie e davvero... Perché è un circuito, quindi è un circuito che si basa in varia dei livelli. Ci sono livelli nero, bianco, argento, oro. Quindi sono del livello nero quest'anno. Quest'anno. E allora Salvatore Riunno, campione italiano di latte art nero, grazie e in bocca al lupo per domani. Vive il lupo!